buonasera a tutti dobbiamo attenzionare alcune situazioni che si stanno verificando moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene moltissimi lo scrivono su facebook nei messaggi ma io vorrei capire come andrà tutto bene come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni dieci giorni come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette al posto di prendersi dato che hanno il viso e il fumo va bene non entro in merito ne prendono parecchie se li mettono a casa non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa il parrucchiero a domicilio ma questi capelli a cosa servono questi capelli fatti in questo momento a cosa servono ve lo fate capire come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta perché sono stressati ma ragazzi io io corro da vent'anni tra alti e bassi corro da vent'anni e a delia quelli che corriamo siamo massimo una ventina ora tutti i podisti sono diventati a delia tutti che vogliono correre ma dove andate a correre se l'ultima volta che avete fatto un po di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestra scuola elementare ma dove andate a correre ma vogliamo fare le persone serie mi chiamano sindaco io devo andare a canicattì a fare la spesa a canicattì non ci puoi andare a fare la spesa la spesa la fai a delia salvo che ti serve qualcosa di importante che a delia non hanno un farmaco salvavita un alimento per un'intolleranza dove vai mi chiamano sindaco il mio cane mangia le crocchette che vendono solo a caltanissetta ma questa la chiamiamo serietà ma questa la chiamiamo serietà lo chiamiamo buon senso gente che ha i figli che vengono da fuori sicilia perché ormai siamo tutti zona rossa e dei familiari escono e dobbiamo richiamare noi oggi di domenica tantissime persone in campagna arroste le carni a fare barbecue ma stiamo scherzando ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza facevano delle feste in un condominio ci sono andato io solo oggi di domenica e siamo sindaco siamo tutti quelli il condominio ma il contagio lì è stare a casa significa stare solo con la propria famiglia non con i vicini di casa che poi voglio vedere sti vicini di casa che confidenza avete tutt'ora sti buon vicinato c'è a delia tutti sti buon rapporti vicinato ci sono a delia gente che per fare il cartellone il cartellone andrà tutto bene a casa 20 persone perché il cartellone deve essere bello e chiamiamo cugini parenti per fare un cartellone quello è contagio quello è rischio contagio lo capito o no stare a casa non significa fare venire persone per fare cugineggia 20 a 30 ma di chi stiamo parlando e qualcuno mi dice è sindaco dobbiamo ringraziare quelli che rimangano a casa no io ho pensato a questa frase no quelli che rimangano a casa stanno facendo il loro dovere che oggi ai caratteri dell'obbligatorietà oggi è un obbligo rimane a casa dobbiamo ringraziare quelli che sono in trincea perché in italia siamo bravi a capavolgere le cose dobbiamo ringraziare le migliaia di medici di infermieri paramedici forze dell'ordine vigili associazioni volontariato sindaci persone che siamo in trincea noi in mezzo alle strade per proteggere la moltitudine che se ne fotte diceva il sindaco di niscemi il mio collega si cazzeggia è vero si cazzeggia siamo stressati a stare a casa stiamo stressati con il telefono la connessione internet la televisione il mangiare la playstation siamo stressati stressati i nostri nonni che andavano in guerra non quelli che si rimangano a casa e che cantiamo azzurro azzurro dai balconi se poi usciamo a fare la spesa ogni giorno la coerenza dov'è la coerenza dov'è il rispetto dov'è nostre degli altri ma la vogliamo finire o no io oggi già con la protezione con la polizia municipale abbiamo denunciato persone all'autorità giudiziaria e continueremo a farlo io oggi di domenica sono uscito per andare a redarguire persone persone grandi e vaccinate però sono le persone che da stanotte mi mandano i messaggi sintomo a chi è questa signora ma come dobbiamo fare però poi usciamo perché il problema è sempre degli altri il problema è sempre lontano da noi però giochiamo col sederino di tutti e con la responsabilità mia dei carabinieri dei medici di quelli che siamo in strada per voi la reputata correttezza questa signori scusatemi la reputata correttezza non è correttezza è egoismo cretinaggine stupidità superficialità e qualcuno mi dice è però sindaco non dobbiamo allarmare come non dobbiamo allarmare come non dobbiamo allarmare una pandemia c'è non è più un'emidemia una pandemia e non dobbiamo allarmare quanto si deve allarmare la gente se non si allarma per una pandemia scusatemi quanto si deve allarmare la gente vogliamo fare i seri o no vogliamo fare le persone diligenti o no le cutiregge a casa tutti campassero cutiregge con gli amici ma ma veramente qualcuno ce l'ha in testa il neurone ce l'ha qualche neurone o sono tutti spenti questi neuroni e poi magari mi ci sinta qua e le occhiaie sei stanco ti devi riposare come mi devo riposare io come mi devo riposare io che rischi ogni giorno come gli altri come i medici come i vincili come i carabinieri come gli infermieri come l'associazione volontariato come gli osa gli altri siamo quelli che rischiamo e quelli che rimangano a casa stressati stressati devono uscire la corsetta la passeggiata del cane vengono persone davanti casa mia che stanno in tutt'altro punto del paese ma questo cane quante volte la va a fare la pepe il cane deve uscire nella zona limiti o fa casa volta e ritornate a casa non una passeggiata le persone col passeggino vado la mia sorella ma dove vai da tua sorella a casa chiedi lo capisci o no spero di essere stato chiaro signori spero di essere stato chiaro essere stato chiaro comunque sappiate che ormai stiamo passando non più agli avvisi ma alle denunce perché è giusto che chi sbaglia paghi è giusto che chi sbaglia deve essere sanzionato e denunciato per qualcuno evidentemente non riesce a collegare ancora il cervello e non è perché lento come ho detto nello scorso post perché è ritardato perché è ritardato di questo si tratta grazie signori buona serata a tutti buongiorno sono gianvilippo bancheri il sindaco di delia questo è il paese stamattina completamente deserto invio questo messaggio per fare presente mettere a conoscenza ciò che è successo dopo il video ormai diventato virale sul monito da melangiato ai miei concittadini devo dire che è servito è servito non solo al mio paese ma a un territorio molto più vasto dato che questo video è diventato virale fortunatamente e la gente ha capito che deve cambiare gli stili di vita per in questo momento in questo momento deve cambiare gli stili di vita per fare in modo di evitare il contagio sembrerebbe da quello che vedo da quello che sento da altri colleghi che ci sia un atteggiamento un po' meno superficiale sull'argomento un po' più senso di responsabilità che era quello che chiediamo noi in qualità di sintaci e di responsabile delle igiene e sicurezza sul suolo pubblico anche a salvaguardia di tutti quelli che sono in prima in prima linea in primis medici infermieri paramedici forze dell'ordine volontariato e tutto il resto quindi io sono soddisfatto del risultato ma non molliamo siamo su stiamo sul pezzo non abbassiamo la tensione perché si aspetta il picco tra non molto e dobbiamo quindi mantenerci tutti come dire sul chi va là stare attenti perché ne dobbiamo uscire tutti ma ne dobbiamo uscire bene come dicevo con con etica della responsabilità e soprattutto sapendo che un nostro atteggiamento corretto agevola la moltitudine agevola agli altri grazie 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 grazie